Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video, sicuramente questo video vi piacerà un sacco perché vi faccio vedere come fare un piccolo allungamento con il semi permanente ovviamente devono essere semi permanenti idoni come per esempio l'HD di passione unghie oppure voluto di estrosa, insomma quelli che sono anche abbastanza densi e permettono questa cosa mi si era rotta un'unghia quindi vi farò vedere appunto l'unghia rotta e appunto ho utilizzato questo sistema per fare un piccolo allungamento se hai fatto bene con i stessi criteri della ricostruzione dura assolutamente senza problemi quindi so sicuramente che questo video vi piacerà, vi farà piacere ma fatemi lo stesso sapere tutto e al prossimo un grosso bacio, ciao! Questo è il risultato finale appunto delle mie unghie e con quella che ho appunto allungato che poi andremo comunque a coprire con un colore io ho preso una base classica, ho utilizzato questa, ho utilizzato anche la base HD Pink appunto che permette anche in piccoli allungamenti e ho steso la base su tutte le unghie e poi inizio a stendere appunto la base Pink facendo il refill del semi permanente che avete visto in un altro video e vi sto facendo vedere velocemente appunto di nuovo questa piccola parte ora prendiamo una cartina, io utilizzo queste di Crystal Nace per comodità e con i soliti accorgimenti vi rimando agli altri video sull'allungamento, sulla ricostruzione per vedere come applicarla al meglio questo video è più incentrato per farvi vedere che si possono fare dei piccoli allungamenti col semi permanente è molto molto utile per tutte le persone che non vogliono il gel quindi se si spezza un'unghia avere questa possibilità, secondo me è il top ovviamente poi io ho utilizzato più rosa per coprire il tutto poi ovviamente facendo poi un monocolore tutto si opacizza nel senso che tutto diventa più armonico in sé come si funziona l'allungamento? col classico sistema, come appunto vedete in questo momento di mettere un po' di più di prodotto soprattutto dove c'è la congiuntura dell'allungamento stesso tenete sempre le stesse caratteristiche col gel nel senso che va sempre fatto la bombatura, va sempre fatto il rinforzo centrale insomma sempre i soliti accorgimenti però avete visto che si può comunque fare ho tolto la cartina e vado a uniformare il tutto di nuovo passando questo prodotto state attenti a non cambiare l'armonia dell'unghia a mettere troppo il prodotto e sformare e deformare la visione dell'unghia stessa è veramente molto importante guardarla in tutti i versi e in tutti i sensi dopodiché andiamo a opacizzare, andiamo a limare, andiamo a coprire insomma facciamo tutti gli altri passaggi, accorgimenti vi voglio far vedere appunto che avevo fatto questa cosa l'ho fatta con la mano cionpa quindi comunque anche la difficoltà della mano opposta con cui si scrive è venuta bene nel senso che non è facilissimo secondo me vederlo una volta coperto col colore adesso un pochettino sì ma dopo no spero tanto che il video vi sia piaciuto sia tutto chiaro se no fatemi domande al prossimo un grosso bacio ciao